Stiamo schiacciando dalla penaglia, diciamo che la ricetta è una cosa. E' una cosa più di fare il gioco di questo spettacolo. E' una cosa più di fare il gioco di questo spettacolo. Se lei è la spettacolo italiana, se lei è la spettacolo italiana, se lei è la spettacolo italiana, se lei è la spettacolo italiana del paese, noi non staremo qui a fare gli spettacoli di questo nuovo spettacolo. Torno quando vorrà fare il gioco del cadalezzo e quando la scuola giornata si prepara con le solitudini che non lo sa facendo. Colleghi, colleghi, deputate con il cadale, per favore, deputate con il cadalezzo. Perché se interviene il deputato Brunetta, nella facoltà, con un... Grazie a tutti!